Siamo stati bravi, in Calabria siamo stati bravi o in altre città dove non eravamo al governo, penso a Caserta, penso a Latina, ci avviamo ai ballottaggi e per me è anche una gioia governare la Calabria o essere al ballottaggio a Caserta o aver vinto a Nardò o a Latina probabilmente addirittura al primo turno, però laddove abbiamo perso, evidentemente fare autocritica, dobbiamo essere più bravi, più compatti e più veloci. Vediamo se c'è una domanda da Luciano Fontana